La guerra di secessione americana, nota anche come guerra civile americana, fu un conflitto armato combattuto tra il 1861 e il 1865 tra gli Stati Uniti d'America e gli Stati Confederati d'America, entità politica sorta dalla riunione confederale di stati secessionisti dall'Unione. Cause della guerra. Le cause della guerra di secessione sono complesse e sfumate, ma possono essere ricondotte a due fattori principali. La questione della schiavitù e le differenze economiche e sociali tra gli Stati del Nord e del Sud. La schiavitù era una pratica diffusa negli Stati del Sud, dove la produzione agricola su larga scala era basata sul lavoro degli schiavi. Gli Stati del Nord, invece, erano in gran parte industrializzati e avevano una popolazione più numerosa, diversificata e alfabetizzata. Le differenze economiche e sociali tra i due gruppi di Stati si riflettevano anche nelle loro visioni politiche. I sostenitori della schiavitù, generalmente più conservatori, erano favorevoli a un governo federale debole e a un'economia basata sull'agricoltura. I sostenitori dell'abolizione della schiavitù, invece, erano generalmente più progressisti e favorevoli a un governo federale forte e a un'economia basata sull'industria. L'elezione di Abraham Lincoln L'elezione di Abraham Lincoln come presidente degli Stati Uniti nel 1860 fu l'evento scatenante della guerra. Lincoln, un repubblicano, era un fervente sostenitore dell'abolizione della schiavitù e la sua elezione fu vista dai sudisti come una minaccia alla loro esistenza. La secessione degli Stati del Sud In risposta all'elezione di Lincoln, undici stati del sud si secessionarono dall'Unione e formarono gli stati confederati d'America. La confederazione era guidata da Jefferson Davis, un ex senatore degli Stati Uniti. La battaglia di Fort Sumter Il 12 aprile 1861, le forze confederate attaccarono Fort Sumter, una fortezza federale situata nella Carolina del Sud. L'attacco ebbe successo e i confederati presero il controllo della fortezza. Questo evento segnò l'inizio ufficiale della guerra di secessione. Il corso della guerra La guerra di secessione fu un conflitto lungo e sanguinoso. Le forze dell'Unione, guidate dal generale Ulysses S. Grant, alla fine prevalsero sui confederati, guidati dal generale Robert E. Lee. La guerra si concluse con la resa dei confederati il 9 aprile 1865. Le conseguenze della guerra La guerra di secessione ebbe profonde conseguenze per gli Stati Uniti. La schiavitù fu abolita, il governo federale fu rafforzato e gli Stati Uniti si consolidarono come una nazione unita. La guerra fu anche un evento traumatico per il paese, che lasciò dietro di sé un'eredità di divisioni e conflitti. I protagonisti della guerra Tra i protagonisti della guerra di secessione vi furono Abraham Lincoln, presidente degli Stati Uniti d'America e il leader dell'Unione. Jefferson Davis, presidente degli Stati Confederati d'America. Ulysses S. Grant, generale dell'Unione che guidò le forze federali alla vittoria. Robert E. Lee, generale dei confederati che guidò le forze confederate alla sconfitta. Le battaglie più importanti Tra le battaglie più importanti della guerra di secessione vi furono Battaglia di Fort Sumter, 1861 Battaglia di Bowen, 1861 Battaglia di Gettysburg, 1863 Battaglia di Apamarax Court House, 1865 Il significato della guerra di secessione La guerra di secessione è uno degli eventi più importanti della storia degli Stati Uniti. La guerra mise fine alla schiavitù, consolidò il governo federale e determinò l'unità del paese. La guerra fu anche un evento traumatico che lasciò dietro di sé un'eredità di divisioni e conflitti che ancora oggi si fanno sentire negli Stati Uniti. Grazie a tutti!